la nuova europa quali prospettive per l'economia e i mercati questo è il tema della sedicesima edizione del forum sulla finanza d'impresa organizzato dallo studio bgsm and partner in collaborazione con l'ordine dei commercialisti e degli avvocati di prato sono qui oggi per confrontarci su un tema molto delicato che è quello dell'integrazione dell'armonizzazione dei principi delle leggi di natura comunitaria in un ambito in continua evoluzione come quello del contesto italiano mercati ma non soltanto norme di natura fiscale non solo un tema particolarmente intrigante mai come oggi estremamente attuale è un momento estremamente complicato estremamente difficile in cui l'europa è chiamata a rispondere in maniera forte coesa forse come non ha mai fatto fino ad oggi durante il forum si è analizzato le tematiche riguardo la prevenzione e l'assicurazione dei crediti commerciali quando c'è l'unione tra credito quindi tra credit e finanza per me è un argomento ghiotto perché diciamo che il credito è la parte trenante della finanza e quando parliamo di prevenzione specialmente in questo momento di grandissimi sconvolgimenti geopolitici non possiamo che concentrarsi su questo aspetto qui della prevenzione quindi il credito oggi rappresenta uno degli strumenti delle possibilità che oggi le aziende hanno per cercare di lavorare in questo intricato mondo di grandi criticità ma anche di grandi opportunità particolare attenzione anche sulla sicurezza e l'impatto sui mercati dell'intelligenza artificiale cercherò molto brevemente per annoiare l'uditorio di evolvere un concetto di sicurezza nazionale attraverso la declinazione nella prossima rivoluzione industriale la quinta rivoluzione industriale prossima avventura che quella portata dall'intelligenza artificiale focus anche sul mercato dell'edilizia in rapido cambiamento è un mondo che grazie a dio ha beneficiato di una legge cosiddetta del 110 per cento del decreto rilancio quindi in italia abbiamo avuto un incremento del pil proprio grazie a questa ripartenza post pandemia cosa che è successa anche in portogallo non è successa invece in germania in francia che non hanno beneficiato di queste leggi le conclusioni finali invece riguardano l'aspetto culturale e l'impatto dello stesso sui vari mercati europei forse sorprenderò l'uditorio l'eletto uditorio questa sera perché uno dei temi portanti sarà la cultura quindi uno degli asset che lega l'europa prima ancora che ci fosse un europa come la conosciamo noi oggi e prato in quest'ottica come rientra beh prato chi è di prato sa di essere cittadino del mondo e primariamente cittadino europeo ce lo insegnano i nostri mercanti ce l'ha insegnato datini e quindi da prato da questo forum può davvero partire una riflessione aperta dialogante ma molto seria sulle prospettive future grazie a tutti